Dopo un anno e mezzo il nuovo intervento da parte dell'ex sindaco di Floridia Orazio Scalorino che tuona contro l'analisi effettuata dal sindaco di Floridia Gianni Limoli sulle difficoltà in cui versa il comune di Floridia, difficoltà economiche. Barzellette dice Scalorino per giustificare i propri fallimenti e dare la responsabilità all'amministrazione precedente. Adesso spiego come stanno le cose e lo fa attraverso un comunicato stampa. La mia amministrazione, dice Scalorino, non ha creato un solo centesimo di debito, tutto quello che era stato speso era scritto in bilancio. Ancora dice non è vero che non abbiamo richiesto il pagamento per il servizio idrico, abbiamo prelevato del servizio da 6-8 nel 2014, avviato le letture dei contatori di 9.000 utenze, inviato le prime bollette nel 2015, ottenuto una riscussione che è andata oltre l'80%. La crisi di liquidità per l'ex sindaco che vive lente è una diretta conseguenza dell'inefficienza della mancanza di stabilità amministrativa e ricorda i 12 assessori in un anno e mezzo della giunta Limoli contro i suoi che in 5 anni ne ha avuti 11. Il comune di Floridia con l'attuale amministrazione ha partecipato solo a un bando pubblico e non ha ottenuto ad oggi nessun finanziamento esterno. Ha ereditato invece, dice Horazio Scalorino, da noi il finanziamento del campo sportivo, della scuola di ultima generazione, dell'asilo nido, dello SPRAR e i progetti delle scuole per ottenere ulteriori finanziamenti. Poi, sugli stipendi, Scalorino fa notare che il sindaco e la giunta si sono deliberati lo stipendio con valore retroattivo senza ridurre di un solo centesimo la propria indennità. Elargisce anche qualche consiglio. Si facciano spiegare bene il reato di peculato da uno bravo. Controllino attentamente i provvedimenti di somma urgenza dei funzionari comunali. Si costituiscono parte civile nel processo contro gli avvocati di 6-8, quei soldi erano anche dei contribuenti floridiani. Partecipino in prima linea alle manifestazioni pubbliche, anche se ci si sente fuori luogo. Il consigliere comunale Gaetano Vassallo precisa le motivazioni dell'operato del Partito Democratico invece in consiglio comunale. Succede purtroppo che Limoli è un sindaco in grande difficoltà perché ha perso la maggioranza, si è reso conto che tutte le promesse che ha fatto in campagne elettorali sono irrealizzabili, dagli stipendi che non si prendeva a l'acqua pagata a 10 euro a persona, eccetera. Tutta una serie di cose impossibili da realizzare che adesso gli si rivoltano contro. Utilizza l'attacco alle opposizioni per far in qualche modo giustificare i suoi fallimenti. L'abbiamo vista nella vicenda anche dell'assestamento di bilancio. Ma l'opposizione sta cercando di operare, ovviamente sempre con l'obiettivo di dare stabilità alla città e di realizzare cose utili per il Paese. Dicevo prima, l'abbiamo visto anche nella vicenda degli assestamenti di bilancio che il sindaco ha utilizzato in maniera strumentale per attaccare anche in maniera volgare, dico, membri dell'opposizione. Noi abbiamo fatto un'operazione importantissima con gli assestamenti di bilancio. Abbiamo dato stabilità alla struttura finanziaria dell'ente, accantonando delle risorse che serviranno nel 2019 e di conseguenza liberandone altre che potranno essere utilizzate per fare quei lavori che sono necessari, appunto, sia di investimenti e di manutenzione. Una manutenzione che peraltro sconta il vero problema di questa amministrazione che è quella dell'assoluta mancanza di programmazione. Anche nella vicenda dell'emendamento legato agli istituti scolastici, nella maggior parte dei casi si tratta e si trattava di interventi di manutenzione ordinaria che dovevano essere programmati nel corso dell'attività corrente dell'ente nel corso del 2018, ma questa amministrazione non l'ha fatto come non ha fatto tante altre cose. Ma noi pretendiamo che l'Imo li faccia un bagno di umiltà, che la smetta di accusare gli altri per nascondere i suoi fallimenti e che parli solo delle cose che sono realizzabili, ma è pensabile che in un paese come Floridia, che sconta un problema enorme legato alla questione dei rifiuti. L'amministrazione comunale non delibera il piano rifiuti, ma è l'ufficio che invia direttamente al Consiglio Comunale il progetto per il nuovo piano dei rifiuti. Questa, a mio avviso, è una cosa incredibile. Sarebbe un atto politico fondamentale quello dell'Aggiunta di stabilire qual è la sua visione rispetto al problema dei rifiuti, ma l'Aggiunta non lo fa, il Sindaco non lo fa. Come continuerete a lavorare? Lavoreremo cercando di intervenire positivamente dove possiamo farlo. Aspettiamo che il piano arrivi in Consiglio Comunale e lo modificheremo in base alle esigenze del paese, ascoltando anche le esigenze dei cittadini, perché non è possibile che non ci sia informazione, non ci siano attrezzature, strumenti a disposizione dei cittadini per poter adempiere i loro obblighi riguardanti la raccolta differenziata. Guardi, purtroppo è difficile spiegare alla città che l'opposizione deve intervenire dove ci sono le mancanze e sono tante dell'amministrazione, ma noi stiamo cercando di fare di più, stiamo cercando anche di programmare delle attività e di offrire in maniera del tutto disinteressata quelle che sono le nostre soluzioni per i problemi più importanti. Il sindaco purtroppo rifiuta il confronto, preferisce andarsene ai convegni del PD piuttosto che venire in aula in Consiglio Comunale a discutere seriamente dei problemi della città. L'Imoli è il Partito Democratico, voi è il Partito Democratico, le strade potranno un giorno incrociarsi? Ma lui sta tentando in tutti i modi di avere una copertura politica in questo senso, ma io penso che entrare in un partito significa condividere le idee, condividere le impostazioni anche valoriali e l'Imoli è profondamente lontano da tutto questo, come profondamente lontano da un gruppo politico che in questi anni ha dato tanto a questa città e contro lui e contro cui lui ha combattuto e continua a muovere accuse di ogni tipo e di ogni genere.